Stamattina in Consiglio Comunale si approva il documento del piano economico finanziario da cui scaturisce anche la diminuzione della tariffa di giro ambientale. Sì, come avevamo promesso ci sarà una riduzione del 5%, io l'anno scorso mi ero scusato con i cittadini terramani perché purtroppo la TIA era aumentata del circa il 12%, abbiamo lavorato in maniera importante quest'anno e siamo riusciti con una serie di attività a ridurre la TIA del 5%. Però il capogruppo regionale Fli ha parlato stamattina di una falsa diminuzione perché negli ultimi due anni ci sarebbe stato un aumento del 36%. Ma io non so che cosa dice il capogruppo regionale di Fli che mi sembra che prima era assessore al comune di Teramo ed è entrato in regione all'interno del listino del centrodestra, mi sembra di ricordare bene. Insomma forse il consigliere regionale di Fli dovrebbe battere un po' la mano nel petto e fare il mia colpa anche perché insomma se oggi il comune si trova a pagare diverse centinaia di mila euro di percolato forse lui dovrebbe chiedersi se in questo discorso si dovrebbe solo domandare se ha qualche responsabilità, io non lo so. Noi quello che sappiamo è che la TIA si riduce del 5% oggi, è un dato importante, si deve continuare a lavorare soprattutto ci aspettiamo che presto il nostro territorio possa avere una discarica, una discarica dove poter portare quello che i cittadini terramani producono, c'è una raccolta differenziata che è dato di febbraio è al 69%, quindi voglio dire stiamo raggiungendo livelli importanti, abbiamo bisogno di una discarica, abbiamo bisogno di poter, di non essere costretti a pagare somme così alte per i nostri rifiuti. Devo ringraziare i cittadini terramani per quello che stanno facendo, la ricolta differenziata va molto bene, è chiaro che c'è qualcuno che ancora porta le buste vicino ai cestini, cosa che non si dovrebbe fare, io li invito a collaborare, a darci una mano perché con il loro aiuto noi possiamo raggiungere veramente livelli importanti, anche perché è veramente un segno di inciviltà fare questo, basta impegnarsi un po' e si può riuscire a fare quello che tanti cittadini, la maggior parte dei cittadini fanno. Grazie Grazie